Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Così nacque la città murata, nascita della fortezza vecchia, Livorno nel Medioevo, di Cinzia Gielenkovic. Dal X al tutto il XIII secolo, il territorio livornese conosce un dinamismo economico e sociale che lo caratterizza. L'areale appare proteso verso il mare, mediante le attività commerciali e marittime di Porto Pisano presso Livorno e al contempo risulta sorretto da una solita tradizione agricola dell'entroterra instaurata nel periodo romano e consolidatasi in quello alto medievale. Il potenziamento economico, sotteso dalla politica pisana interessata al dominio navale sulle altre repubbliche marinare, attraverso una sinergia fra il Porto Pisano a Livorno e il sistema portuale urbano fluviale di Pisa, conduce alla copertura di tutto il bacino del Mediterraneo con le rotte marittime afferenti livornese. Porto Pisano, all'interno di un'epoca come quella medievale di grandi pellegrinaggi religiosi, rappresenta anche la via di passaggio mediterranea per il traffico di passeggeri, quale sbarco lungo i percorsi fra Roma, Santiago di Compostela e Gerusalemme e snodo sulla rete viaria terrestre strutturata sull'Aurelia Carraia e l'Emilia Scauri Maremmana De Collinis. In un quadro di vivace realtà economica, nel 1000 si instaura il processo di incastellamento, sebbene, oltre ad essere più tardivo di circa un secolo rispetto alle circoscrizioni dell'Italia settentrionale, risulti poco influente sull'organizzazione territoriale. I preesistenti impianti insediativi, definiti dalla razionalizzazione degli spazi rurali strutturati in base alla proprietà agraria, permangono immutati nelle loro caratteristiche di abitati sparsi in forma di cascinali di campagna, ville, borghi, villaggi a maglie larghe e villaggi aperti non fruttificati, che dipendono socialmente dalla struttura della cura d'anime in un controllo del territorio gestito dagli enti ecclesiastici e dalle pievanie. La consolidata struttura organizzativa dei pievanati non viene influenzata dai castelli signorili. Le chiese battesimali rimangono nella loro ubicazione originaria senza subire attrazione da parte dei centri incastellati. La fondazione di nuovi monasteri, correlata non solo all'impulso religioso, quanto all'affermazione sociale e politica delle casate detentrici, viene ad assumere un ruolo prioritario nel controllo politico dei beni fiscali.